Il veloce e solido è associato alla terra... Senti quante puttanate. Speravo di andare in un vero college, non solo uno online a cercare messaggi in codice nelle lezioni. Di che stai parlando? Guardati in turno. Questa è la nostra città. Perché dovremmo andare al college? Hai ragione. Partner a vita. Al Metro City Board, la marea arriva alle 10.30 di mattina. Poi si ritirerà verso il mare. Metro Board. Tra un'ora. Turn down for what? Entriamo in azione. Turn down for what? Turn down for what? Sorpresa. Altre due braccia. Turn down for what? Turn down for what? Cazzo! Quello è Ghost! Ghost? Yost Nielsen, il più grosso trafficante di Metro City. Si è alleato con un cartello messicano per trasportare la sua roba. Che dovremmo comprare? Non lo so. Che stai facendo? Ah? La nuova identità segreta. Adesso te la faccio vedere. È per essere più credibile. D'accordo. Dovrà improvvisare, ok? Non voglio improvvisare. Ho assoluto bisogno che tu improvvisi. Non sono capace, non voglio farlo. Silenzio. Non voglio... Non voglio... Perché mi fai sempre... Silenzio. Mi sto calando nella parte. Puoi farmi cenno quando sei entrato nella parte? Ho detto silenzio, voglio silenzio, ok? Potresti per favore... Assoluto silenzio. Ma mi stai prendendo per il culo? Tutto a posto? F. Odio la gente che arriva in ritardo. Orale, vato. Vogliamo vedere il prodotto. Oh, merda! Ehi, Pissolo, che dici, amico? Conosci mio cugino, Sad Boy? Devi aver sbagliato persona, amico. Dici, puttanate, bello, sei Pissolo! Tutti nel barrio dicono Pissolo, è tipo il volvere in messicano. Il mio partner qui vuole vedere il prodotto. Perché non parla? Mi chiamo Jeff? Lui è Jeff, amico. Raccontagli della quinsiniera di Mausi. Digli di quell'avventura che avete avuto. Io non so di che stai parlando. Amico, quando ce l'hai raccontata ieri sera l'hai riempito di dettagli. I dettagli erano così ricchi, ricchi dettagli. Entra nei dettagli incredibilmente descrittivi della tua storia. Vogliamo sentire! Oh, sì? C'erano Speedy, e Gonzales, e il papero. E il papero. Chi è che hai sistemato, amico? Se l'era cercata, chi era stato? Cazzo. Pluto? No, amico, non è stato Pluto. Pluto non è un nome vero. Racconta come si deve. Ricomincia tutto da capo. Quello è solo un nome inventato. È incredibile con quanti coglioni ho a che fare di questi tempi. Sapete, mi mancano tanto gli anni novanta, quando c'erano dei professionisti seri. Volete controllare la roba? Controllatela. E non parlate, ok? Dove l'hai trovato, questo gringo? A un fottuto concerto di mariachi? Che c'è? Armi, droga. Oh, no! No! Cazzo! Ah, basta, che schifo! Mi sta sciattando nella bocca! Cazzo, non riesco a togliertelo! I tentacoli mi stanno mangiando! E non, non si stacca più! Mi sto mangiando, sono affatto! Cazzo! Cazzo! Traffico di animali esotici? È proprio come sospettavamo! L'accento è sparito, eh? Fateli fuori, ragazzi! Sono sbirri! Cazzo! Cazzo! Non lo so, ci stiamo muovendo! Sì, ci stiamo muovendo! È pieno di uccelli qui! Mi stanno giocando addosso! Ma che cazzo! C'è pure un drago qui dentro! Ah, cazzo! Che cosa è stato? Era la nostra auto! Abbiamo condiviso un sacco di cose lì dentro! Gli sparerò in faccia per questo! No, aspetta! Quella era la nostra auto! Che stai facendo? Salti come un lupo mannaro! Non lasciarmi qui da solo! Allora, vieni su! Non sono capace! Vai, arrampicati sul fianco! Andiamo, arrampicati! Donazzo, ci sei? Aspetta, aspetta! Ho tanta paura! Sparagli! Non lasciarmi qui! Scarica! Stupido, coglione! Così, andiamo, vieni su! Forza, ci sei! Cazzo! Tutto bene? Sì! Ora devi solo camminare, ok? Ok! Cazzo! Che cazzo stai facendo? Vieni qui! Va bene, allora ti trascino! Non morirai! Devi solo montare qua su! Tirati su e vieni qui! Maledizione! Devi dare un colpo di reni, un colpo di reni! Ci sei, ci sei, andiamo, 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 andiamo! Sì! Ok! Riesci ad alzarti da solo? Sì! Ce ne siamo liberati! Cazzo! Ma chi è? Terminator! È pericoloso! Occhio al fuorobrenza! Venti, chiedo! Venti, arrai che stai facendo! Accostate il camion! Ho detto accostate questo camion immediatamente, cazzo! Mi devi un'auto, è meglio che sia una Lamborghini, stronzo! Ce l'ho fatta! Avete il diritto di rimanere in silenzio! Oh, cazzo! Cazzo! Oh, cazzo! Porca troia! È successo! Credo siano scappati! È un succhiotto quello! Certificatori che spazi! Grazie a tutti.